Ciao da Avsim! Video a 360 gradi su Dejan Kulusevski, che è praticamente un nuovo giocatore della Juventus, anche se aspettiamo con calma l'ufficialità. Però la bomba tirata fuori ieri sera, 30 dicembre, da Gianluca Di Marzio è abbastanza significativa. Si è parlato di cifre, si è parlato di accordo praticamente definitivo, praticamente fatto, mancano solo le firme. Tutto completato, quindi regalo non di Natale, ma di fine anno di Paratici alla Juventus e a noi tifosi. E un applauso a Fabio Paratici, anche se in attesa delle ufficialità lo facciamo sicuramente in questo 31 dicembre 2019, fine dell'anno, fine del decennio, e finiamo col botto. Allora, anche se, diciamo, sul discorso botti non entro e cercate di fare sempre attenzione a proposito, anzi, se potete evitare è meglio, meglio una bottiglia di spumante, magari piuttosto che rischiare di farsi del male. Comunque, a parte questo, entriamo nel discorso Kulusevski perché dobbiamo parlare di campo, dobbiamo parlare di calcio, il Capodanno non ci interessa in questo momento, ci interessa parlare di calciomercato. Dejan Kulusevski era un giocatore, in realtà, destinato all'Inter, o comunque la trattativa era ben intavolata ed era ben avviata da parte dell'Inter. E io, infatti, il 20 dicembre ve ne avevo parlato, quindi 11 giorni fa, 10 giorni fa, ve ne avevo parlato proprio in questi termini. E cioè, l'Inter sembra prossima, in procinto, di prendere Dejan Kulusevski dall'Atalanta perché il giocatore svedese è in prestito al Parma dove sta giocando benissimo in questo campionato con dei numeri che vi dirò tra poco, perché dobbiamo parlare di numeri, dobbiamo parlare di collocazione in campo, di caratteristiche tecnico-tattiche, però poi, evidentemente, è andato storto qualcosa. In particolare, la richiesta economica dell'Atalanta non ha trovato risposta adeguata da parte dell'Inter, che non è stata in grado, non ha voluto, non ha saputo pareggiare quella richiesta. Si è inserita allora la Juventus, che però, a quanto trapella, in realtà aveva seguito e si era interessato a Kulusevski anche nel periodo estivo e lo voleva utilizzare. Udite, udite, per l'Under-23 in Serie C. Errore madornale, ma d'altra parte fosse stato semplicemente acquistato quest'estate, penso che la Juventus poi dall'Under-23 lo avrebbe fatto transitare abbastanza agevolmente nella prima squadra. Con un problema, però, che abbiamo una sovrabbondanza ed, infatti, questo affare, indirittura d'arrivo, dovrebbe vedere Kulusevski diventare il nuovo giocatore della Juventus a gennaio, ma restare in prestito al Parma. Anche giustamente nel senso che il Parma ha proiettato la sua stagione, ha programmato la sua stagione con la presenza, sulla presenza di Kulusevski in squadra, che è un giocatore fondamentale in questo momento per le prestazioni che sta offrendo. Toglierglielo in questa maniera un po' brusca sarebbe stato, ovviamente, diciamo, controproducente per il Parma. Certo, la Juve deve pensare ai propri interessi. Evidentemente, le valutazioni che sono state fatte, che vengono fatte in questo momento in casa Juve, sono di una non necessarietà, non indispensabilità in questo momento di Kulusevski. Anche se, ve lo dico subito, che non sono d'accordo e lo vediamo tra poco perché. Parliamo però prima di cifre, si è parlato di 30 milioni più 10 di bonus, di cui 5 abbastanza semplici, 5 più difficili. Altri parlano di 35 milioni più 9 di bonus, con un contratto al giocatore quinquennale che dovrebbe essere da 2 milioni netti. Altri avevano parlato di 3, insomma, più o meno le cifre sono queste. Cioè, stiamo parlando di 40, massimo 45 milioni all'Atalanta e sarebbe, sarà la cessione più vantaggiosa, più onerosa in entrata per l'Atalanta nella storia, ma soprattutto sarebbe un acquisto alle stesse cifre di Holland. E qui torniamo ad un altro discorso. Perché la Juventus ha rinunciato a Holland? Non era un fatto economico, evidentemente. Non è stata in grado, forse, di convincere il giocatore. Ryan nel frattempo ha detto che c'erano 12 club, boom, su Holland. Può darsi che sia vero, ma secondo me era un po' di meno, così, a mia sensazione. Comunque tra questi c'era la Juventus che ha deciso di lasciar perdere Erling Holland. Lasciamolo perdere anche noi perché in questo momento non ci interessa. Anche perché Kulusevski non è Holland come caratteristiche, come livello di giocatore. Secondo me possono anche, diciamo, astrettamente arrivare allo stesso livello, ma sono giocatori diversi. Ripeto, lo vedremo tra poco. Per quanto riguarda le cifre, più o meno siamo a questo, balla, appunto, qualche cosa. Ma la cosa interessante è che staremmo andando a pagare, stiamo andando a pagare Kulusevski, una cifra che abbiamo speso per Bernardeschi, per esempio, e che sarà ipotizzata anche superiore, per esempio, per Chiesa quest'estate. Quindi, da questo punto di vista, io sono felicissimo di questa spesa. Secondo me è assolutamente congrua. Vi dicevo nel video del 20 dicembre su Kulusevski all'Inter, innanzitutto, che forse non era, ma mi sono sbagliato, un giocatore fondamentale per la Juventus nell'immediato, e mi sono sbagliato perché in quei giorni non avevo valutato l'utilità, la duttilità di Kulusevski anche a centrocampo, e il fatto che avesse abbia giocato a centrocampo nelle giovanili dell'Atalanta, e vi dicevo anche che probabilmente in questo momento valeva, vale, almeno 30 milioni. Quindi per 40 milioni sarebbe stato, e sarebbe, un acquisto congruo. Va detto che c'è ancora un'ipotesi, secondo me, molto fredda e da non tenere in grossa considerazione, di un arrivo di Kulusevski alla Juventus a gennaio, provando a convincere, in tal senso, il Parma, dando in prestito secco e gratuito Marco Piazza. Cosa che a noi serve, perché Piazza deve trovare uno sbocco, deve poter giocare. Però, secondo me, ripeto, questa ipotesi non si verificherà. Kulusevski resterà al Parma a completare la stagione, ma sarà di proprietà della Juventus e non più dell'Atalanta. Ritrovandolo, quindi, in bianco-nero alla fine di questa stagione, quindi nell'estate 2020. Veniamo al discorso tattico, ma veniamo a tutti i dati, tutti i dati di Kulusevski, che, infatti, per Transfermarkt, aggiornamento dicembre, ha una valutazione di 25 milioni, ma, secondo me, è al ribasso. È un mancino, è un mancino puro. È un giocatore che sa usare benissimo il sinistro, ma molto bene anche il destro, perché ha fatto, se non sbaglio, un assist, o comunque, sì, ha fatto un assist con il Parma quest'anno di destro, mettendo dentro un cross pennellato veramente greggio. Nato il 25 aprile 2000, quindi compirà 20 anni nei prossimi mesi, svedese già detto, di proprietà dell'Atalanta in questo momento in prestito al Parma. E nel Parma sta giocando alla destra. Sta giocando alla destra, a piede invertito, tendenzialmente in quella posizione. Però, nelle giovanili dell'Atalanta, ha giocato prevalentemente mezzala. Ha giocato un gran numero di presenze. Ed infatti, parlando di presenze, non so se l'ho annotato. No, non l'ho annotato il numero di presenze totali, tenendo conto anche dei campionati giovanili, Under-17, soprattutto Under-19, quindi campionato primavera con l'Atalanta. Però ha fatto già più di 100 presenze totali. Nello specifico, in questa stagione, sono 17 presenze con 4 golle e 7 assist. E già iniziamo a proiettare Kluzevski nelle classifiche, perché con 7 assist, Deshan Kluzevski è il secondo miglior assistman di questa Serie A. Dietro Luiz Alberto, che ne ha fatti 11. Cioè, quindi è un giocatore assolutamente, assolutamente con un rendimento importante in questo momento. Non solo, quindi secondo per assist, è quinto in Serie A per maggior numero di dribbling riusciti. 35, per farvi capire, 35 ne ha fatti Zagnolo, 36 di Bala. Poi c'è Bogat, che ha dei numeri impossibili. Io non so come faccia ad aver fatto già 60 dribbling, 66, una cosa impressionante. Ma parlando di Kluzevski, è anche quinto in Serie A per maggior numero di Kipassis. Questo è Fonte Sofascore, che riporta 40 Kipassis di Kluzevski, quinto in Serie A. Per la Lega Serie A, in realtà, Kluzevski è secondo con 18 Kipassis. Quindi sono due scale diverse, sono due modi diversi di calcolare Kipassis. Comunque è ai vertici, se non è sul podio, quasi. È secondo, secondo la Lega Serie A, per maggior numero di chilometri percorsi in media a partita. Secondo, 12 Kipassi 0-9, 12 Kipassi quasi 100 metri. E inoltre è tredicesimo in Serie A, sempre Fonte Sofascore, per numero di occasioni create 6, cioè come Ronaldo. Ex-equo è tredicesimo, ma in realtà sarebbe sesto, settimo. Poi, insomma, c'è un ex-equo. Insieme a Ronaldo, 6 grandi occasioni da gol create. Questo è il posizionamento in classifica di Kluzevski, che per quanto riguarda le sue caratteristiche... Ah no, scusate, me le ho notate comunque. Le presenze... Ho un quaderno un po' confusionario. I miei abbonati lo sanno. Ieri ho pubblicato la foto in community dei miei appunti presi ieri sera per questo video. Giovanili dell'Atalanta, 81 presenze, 34 gol e 26 assist. Da centrocampista, prevalentemente da centrocampista, 81 presenze giovanili, 34 gol e 26 assist. Quindi un predestinato, un giocatore sicuramente molto interessante, che già si era messo in luce, probabilmente eravamo noi che non ce l'eravamo accorti. Noi intendo come tifosi appassionati di calcio. Le caratteristiche di Decian Kluzevski. Dal punto di vista della contribuzione difensiva, non pecca assolutamente. Anzi, è bravo anche in quello. Subisce 1,5 dribbling a partita. Glielo possiamo concedere, perché comunque è un giocatore di proiezione offensiva. È un giocatore che gioca davanti. Però 1,2 contrasti, 0,8 intercetti. Ci mette anche bene il fisico. Dal punto di vista della costruzione, può sicuramente migliorare, perché non passa tanti palloni, 27,9 a partita. Ne è tanto preciso, 78,5. Però gioca nel Parma. È un giocatore di estro. È un giocatore che dribbla molto. E soprattutto poi i passaggi pesanti li fa, perché abbiamo detto tanti chi passi, sono 2,4 a partita. E tanti assist, già 7 in questa Serie A. Concludendo, per quanto riguarda invece gli aspetti offensivi, 1,5 tiri a partita, numero importante. 2,1 dribbling, come vi dicevo un attimo fa. 2,2 contrasti subiti. Può migliorare in questo. E 3,7 palle perse. Su questo sicuramente deve migliorare. Ma è la cifra di un giocatore che ha estro. È la cifra di un giocatore che ha personalità. Che ha qualità. Che si muove nello spazio. Non so se avete visto giocare Cluseschi, ma fondamentalmente è un giocatore che sa assolutamente muoversi negli spazi. Ora, ha sicuramente un difetto che è palese. Ed è quello riportato da tutti i siti di statistiche e di approfondimento su Cluseschi, relativi a lui, nella sua scheda. E che è quello del controllo di palla. Perché è un po' goffo. È un po' sgraziato. Sembra abbastanza scoordinato. Ma secondo me è un pregio. Perché poi ognuno ha le sue caratteristiche. In che senso è un pregio? Che manda gli avversari fuori tempo. Perché ha dei tempi un po' strani. È un fuori tempo a tempo per chi è appassionato di musica. È un po' come stare sempre nei giusti ritmi, però muovendosi in maniera non perfettamente sincronizzata e non perfettamente simmetrica. Insomma, ha un ritmo un po' irregolare. Ma questo può essere un vantaggio, ripeto, perché quando devi inserirti negli spazi, saltare l'uomo, creare superiorità numerica e dettare il passaggio illuminante, il passaggio smarcante, il passaggio decisivo, guai essere prevedibile. Cluseschi negli spazi è imprevedibile. Questo per quanto riguarda il giocatore. Per quanto riguarda la costruzione tattica della Juventus con Dejan Kulusevski, c'è da dire che probabilmente con lui possiamo consolidare il 4-3-3 se andiamo a considerarlo effettivamente un'ala destra mancina al pari di Douglas Costa, al pari di quello che doveva essere Bernardeschi, Bernardeschi, che non è stato e in questo momento credo che non sarà, però secondo me la più naturale evoluzione di questo giocatore è proprio il ritorno al centrocampo e l'impiego come mezzala sinistra. Cioè immaginate Kulusevski al posto di Matuidi, credo che sarebbe un upgrade importante. Non è Pogba, però è il giocatore che ci serve, cioè noi abbiamo bisogno di una mezzala sinistra forte, di una mezzala sinistra forte. Abbiamo bisogno, avremmo Rabiot che può esplodere, che può diventare appunto la mezzala sinistra forte che ci serve, però perché rinunciare ad uno come Kulusevski in quest'ottica? Come inserire Kulusevski a gennaio? Semplicemente prendendolo, mettendolo in rosa, per quanto riguarda la lista Champions, al netto della situazione Emre Can ancora da definire, al netto di una ipotetica ma secondo me abbastanza concreta esclusione dalla lista Champions di Sami Khedira, ci sarebbe da far fuori Bernardeschi. Come avevo già detto nel caso di acquisto di Holland a gennaio, vi avevo suggerito proprio questo, Holland prende diciamo figurativamente il posto di Mandzukic come attaccante, Mandzukic era fuori lista, Holland deve andare in lista, chi esce? Esce Bernardeschi, il giocatore più deludente del reparto d'attacco fin qui. La stessa cosa vale per il discorso Kulusevski, che lo si voglia considerare centrocampista, trequartista, attaccante a tutti gli effetti, comunque puoi far fuori Bernardeschi dalla lista Champions, esce Bernardeschi e entra Kulusevski. battuta che possiamo fare, la Juve acquista un po' di Kulu che potrebbe far bene in Europa, potrebbe far bene in Champions e speriamo anche se, ripeto, molto probabilmente il giocatore lo vedremo a luglio 2020, quindi all'inizio della prossima stagione. Queste diciamo sono le aspettative, questa è la situazione per quanto riguarda questo giocatore. Ora, io sono sicuramente contento che la Juventus abbia acquistato, stia acquistando a tutti gli effetti un giocatore del genere, perché mi fa piacere che continuiamo o ricominciamo a puntare sui giocatori giovani di qualità vicini a noi. Mi fa piacere che si consolidi questa leadership della Juventus in Italia, tale per cui se la Juve in Italia voli un giocatore va e se lo prende e nessuno può frapporre ostacoli. Resta il discorso di una Juve che però in Europa deve ancora fare strada, perché, e soprattutto se abbiamo rinunciato a Holland per prendere Kulusevski, siamo indietro, perché si poteva fare uno sforzo per prendere entrambi, ripeto, Holland avresti pagato le stesse cifre di Kulusevski, ti costa di meno dal punto di vista dell'ingaggio Kulusevski, ma non ha il beneficio degli sgravi fiscali, per cui alla fine all'ordo vai vicino alla cifra che avresti impiegato per stipendiare Holland. Ma d'altra parte, ripeto, il discorso Holland è un discorso di soccombenza della Juventus in una trattativa molto intrigata di mercato, cosa che invece non si è verificata, non è successa, non sta succedendo per Kulusevski, dove per la Juve è stato, tra virgolette, sufficiente alzare la posta di una decina di milioni per accaparrarsi il giocatore. Quindi note positive da questo punto di vista, fa piacere assolutamente, e poi ovviamente dobbiamo vedere se innanzitutto l'operazione andrà a buon fine e sarà confermata. Dopodiché vederlo all'opera con la maglia della Juventus, valutarlo, sperare che il suo ingresso nella Juventus, nel mondo Juve, non sia da freno, non sia brusco per quelle che sono le sue qualità già espresse fin qui. Un giocatore comunque gioca in una squadra che deve salvarsi, anche se sta facendo un ottimo campionato. Giocatore quindi al quale non è richiesto tanto, cioè non ha tante aspettative addosso, Kulusevski quando scende in campo con la maglia del Parma. Su questo c'è un abisso tra qualsiasi, quasi qualsiasi squadra italiana e la Juventus, cioè la Juventus vince, è l'unica cosa che conta, va in campo con gli occhi puntati addosso, se sbagli mezza partita sui giornali viene definito un flop, e quindi anche su questo bisognerà valutare Kulusevski, che secondo me ha ottima però personalità, i gol, gli assist, le giocate che sta facendo, e il modo in cui è esploso all'improvviso in Serie A, lo dimostrano per lui e quindi c'è da aspettare, ma d'altra parte siamo in chiusura 2019, il 2020 ci racconterà una storia che dobbiamo ancora scoprire. Vi ringrazio allora per la vostra attenzione, il dibattito che andrete a sviluppare nei commenti, vi auguro un sereno fine, una serena fine del 2019, e uno splendido inizio, e anche una prosecuzione fantastica del 2020. Mettete like intanto al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per le notifiche anche nel prossimo anno, ci vediamo molto presto, e sempre forza Juve!